Caso, fedez e motivi per sorridere o per riflettere? Ci sono entrambi, anche se è stato detto praticamente tutto nelle ultime 48 ore, qualche piccola sottolineatura, quello che è accaduto la merita, soprattutto per quanto riguarda il convitato di pietra di quello che è accaduto in occasione del primo maggio, che è come sapete il disegno di legge Zan che sta spaccando il paese. Allora, c'è stata censura? Questa è la prima cosa e qui scatta il primo sorriso perché censura assolutamente non c'è stata, il cantante, rapper, chiamatelo come volete, è andato su quel palco, ha detto assolutamente tutto quello che voleva senza nessun tipo di problema. Lo ha detto senza nessun contraddittorio, pur facendo una cosa che in effetti era un po' singolare perché ha portato un argomento politico, partitico, fazioso, ideologico, lì in un contesto che evidentemente non lo prevedeva, lo ha fatto senza che nessuno si permettesse di alzare un ditino per impedirglielo e quindi non si vede quale tipo di censura abbia subito. Lo ha fatto senza contraddittorio e immaginate a parti invertite che cosa sarebbe potuto accadere se un qualsiasi cantante il primo maggio si fosse permesso di andare sul palco a criticare in maniera molto forte esponenti del Partito Democratico. Probabilmente sarebbe venuto giù il mondo, probabilmente staremmo qui a raccogliere le vesti di tutti coloro critici, opinionisti, grandi giornaloni, i quali quelle vesti si sarebbero stracciate perché quel cantante leghista aveva fatto scempio della democrazia. Ma ormai siamo abituati in Italia al principio dei due pesi e delle due misure, quindi la cosa non ci sorprende. Tra l'altro una cosa più divertente è il fatto che la presunta censura non è arrivata dalla Lega, cosa che sembrava in qualche modo adombrare la Filippica di Fedez, sarebbe arrivata invece da Rai 3 che notoriamente è una televisione pubblica pagata con il canone dei cittadini che non rappresenta proprio un covo, diciamo così, di estremisti di destra o di sovranisti, semmai è connotata da un punto di vista delle sfumature del colore ideologico ormai da tempo immemore per essere una televisione molto spostata a sinistra. Quindi la presunta censura sarebbe arrivata non dalla Lega, che pure Fedez in qualche modo ha sbertucciato sul palco del primo maggio nella persona di alcuni suoi esponenti ben qualificati, ma sarebbe arrivata da una televisione appunto che leghista non è affatto. Ma l'ulteriore elemento paradossale e divertente è che in realtà la povera Rai, per una volta possiamo dirlo, non ha nessuna colpa. Perché? Perché se voi andate ad ascoltare le registrazioni integrali che la Rai si è premurata di fare della famosa telefonata, vi accorgete che la funzionaria o comunque la dirigente che si è occupata del caso aveva perfettamente ragione. Non solo non ha censurato il cantante dicendogli anzi puoi fare quello che vuoi, ma opportunamente gli ha ricordato che forse quello non era il contesto giusto, non era il contesto corretto e qui non si parla più di libertà di espressione o di opinione, si parla piuttosto della saggezza, del buonsenso, di capire quando è opportuno fare o non fare una certa cosa, soprattutto se tu sei chiamato lì su quel palco in occasione della festa del lavoro, non in occasione della festa delle organizzazioni LGBT e sei chiamato su quel palco non in qualità di sindacalista o di esponente di un partito, ma piuttosto come cantante. Tiriamo una linea sul caso Fedez e andiamo invece a interrogarci sul disegno di legge Zan Scalfarotto, disegno di legge che come sapete va ad aggiornare la legge Mancino Reale del 1992, la quale a sua volta aveva integrato, aveva introdotto all'interno del nostro codice l'articolo 604 bis in materia di istigazione alla violenza per motivi di carattere razziale etnico nazionale e integra questa norma aggiungendo punizioni penali per chi istiga alla violenza o commette atti di violenza in materia non solo appunto etnica e razziale, ma anche in materia sessuale di genere, come dice la legge, o di orientamento di genere. Bene, diamo pure per scontato, e così in qualche modo travalchiamo le polemiche correnti, diamo pure per scontato che questa legge in qualche modo sancisca dei principi giusti, sacrosanti, la tutela di persone che sono oggi discriminate. E chiediamoci piuttosto ma se noi facciamo un calcolo costi-benefici in termini individuali e sociali, possiamo dire che questa legge così come concepita sia davvero utile o possiamo invece dire in una logica appunto di bilanciamento che sia più controproducente? Chiediamocelo non solo come cittadini e quindi come individui, chiediamocelo anche come parte, tutti quanti quali siamo, di una collettività e di una società. Quali valori, quali principi sono in gioco qui, oltre al diritto sacrosanto a non essere discriminati? Provo a dirlo in un altro modo. C'è veramente oggi in Italia, nel nostro paese, un'emergenza tale sul piano della discriminazione per motivi sessuali piuttosto che di genere, tale da giustificare un inasprimento di pene già esistenti? C'è davvero un motivo legato a fatti concreti che avvengono nel nostro paese quotidianamente, tale da giustificare l'urgenza, tra l'altro in un periodo come questo, di calendarizzare questo provvedimento normativo? Cioè siamo sotto schiaffo di un'emergenza legata all'identità di genere e a tutti i temi cari alla comunità LGBT? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è un'altra. Che cosa rischiamo a fronte del guadagno, supponiamo che un guadagno ci sia, che effettivamente sia assolutamente urgente, indefettibile, introdurre questo tipo di reato per punire questo dilagante fenomeno discriminatorio nei confronti delle persone per il loro semplice orientamento sessuale. Bene, che cosa rischiamo di perdere? L'altro piatto della bilancia. Che cosa c'è in ballo? Secondo me c'è in ballo un valore molto importante e forse i benefici che questo tipo di provvedimento rischia di farci perdere sono molto più alti dei benefici che questa legge ci dà e che abbiamo già visto in precedenza. Mi riferisco evidentemente alla libertà di espressione del pensiero. Perché? Perché ci troviamo di fronte a un provvedimento normativo, in quanto tale lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo riconoscere tutti, come tutte le leggi, soprattutto se si tratta di una legge penale, di un provvedimento che va a incidere sulle nostre libertà. Ma su quali libertà in particolare? È del tutto evidente che lo fa con riferimento alla libertà di espressione. Verissimo che il disegno di legge Zanna non punisce la propaganda di idee, come invece fa pure la legge Mancino, reale, e però in qualche modo va a punire un concetto estremamente anche ambiguo, come la istigazione a commettere degli atti. Cos'è la istigazione a commettere degli atti? In che misura io rischio nel momento in cui esprimo un mio parere o un mio convincimento radicato, per esempio, in materia di famiglia, in materia di sessualità, in materia di percezione dell'identità di genere. Ecco, quando affronto questi argomenti, quando per esempio mi permetto di esprimere un'opinione consolidata, favorevole, che ne so, alla famiglia naturale fondata sul matrimonio, evidentemente tra un uomo e una donna, quale è stata concepita dai nostri padri costituenti, articolo 29 della Costituzione. Ecco, nel momento in cui una persona dovesse fare discorsi di questo tipo, che fino a ieri erano ovviamente naturalmente liberi, quanto rischierebbe con questa legge di vedersi in qualche modo sospettato di discriminazione oppure di istigazione a commettratti discriminatori? Voi capite che la linea del Piave è estremamente sottile ed è lasciata evidentemente alla discrezionalità della magistratura. Va ad incidere questo sulla io credo che vada ad incidere pesantemente sulla nostra libertà di pensiero, ma di questo sono consapevoli anche gli estensori della legge in commento, perché altrimenti non avrebbero introdotto l'articolo 4 che si intitola niente po' po' di meno che pluralismo delle idee e delle libertà di scelta, che è uno degli articoli probabilmente più ultronei, più pleonastici, più ridicoli, se mi permettete, che si potesse fare in un ordinamento giuridico costituzionale come il nostro, dove già esiste l'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, perché si dice ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Cioè hanno dovuto fare una legge, anzi hanno dovuto introdurre un articolo in questa legge per ricordarci che esiste la salvaguardia della libertà di espressione. Se questo accade, cioè se siamo arrivati al punto che in Italia è necessaria fare una legge dello Stato per salvaguardare un sacrosanto diritto costituzionale, voi capite che evidentemente i dubbi che ho manifestato e palesato sul rischio per la nostra libertà di esprimere un pensiero, anzi scusate di concepirlo e poi di esprimerlo parlandone, sono evidentemente rischi che stanno toccando il livello di guardia. Ma la cosa ancora più preoccupante sono le altre tre righe di questo articolo 4, perché non solo è pleonastico, nel senso che non servirebbe, basterebbe che gli estensori avessero letto la Costituzione per rendersene conto, ma poi in realtà pone un limite all'articolo 21 della Costituzione. Perché? Perché sono fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Voi capite che dal momento in cui verrà approvata, beh, la paura, il timore che i propri pensieri manifestati in parole o per iscritto possano costituire un concreto pericolo per il compimento di atti discriminatori e violenti, significherà la paura di finire tucur davanti a un magistrato per rispondere del delitto di cui stiamo parlando. E quindi è del tutto evidente che di fronte a questo timore e a questa paura, molti faranno, incorreranno, diciamo così, in quella sorta di forma di autotutela che consiste nell'autocensura, cioè si guarderanno bene dall'esprimere le proprie idee per paura, appunto, di finire penalizzati nel senso letterale del termine, cioè incriminati per aver liberamente manifestato il proprio pensiero in nome dell'articolo 21 della Costituzione. Ora chiudiamo la faccenda ricordando un ultimo caso che è successo ieri o l'altro ieri, cioè il caso in cui è accaduto in America dove sostanzialmente uno spettacolo fatto a Disneyland che riguardava la celeberrima fiaba di Biancaneve si conclude con il bacio da parte del principe alla principessa addormentata e qualche critico, poi amplificato in tutto il mondo nei dovuti modi dalla gran cassa dei media, qualche cronista, qualche commentatore ha detto che era inopportuno quel bacio perché la fidanzata, scusate, la Biancaneve, futura fidanzata probabilmente del principe non sarebbe stata consenziente perché era addormentata. Ora, a prescindere dall'enorme cavolata espressa da questo opinionista, la domanda è ma non siete, non cominciate ad essere stanchi di tutto questo clima che si traduce in provvedimenti normativi come il disegno di legge Zanna, ma anche in queste forme ossessive di politicamente corretto con cui continuano giorno dopo giorno a introdurre paletti alla libera possibilità del dire individuale, cioè non siete stanchi del fatto che ormai non passi giorno, anzi non passi ora senza che ci avvisi qualche d'uno, qualche giornale che le nostre parole possono offendere un individuo o una comunità, cioè questa permalosità diffusa a 360 gradi per cui è diventato veramente sempre più difficoltoso provare a pronunciare delle parole senza che qualcuno si offenda. Ecco, non siete stanchi di tutto questo. Se siete stanchi fatevi un'altra domanda, ma questa esigenza di pulizia per così dire etica e morale, tale per cui anche il bacio del principe a biancaneve sarebbe scandaloso, ma viene dal basso, cioè viene da noi, viene dalla gente o viene dall'alto, viene da una ben orchestrata strategia. E quale sarebbe questa strategia? Per esempio quello di perimetrare sempre di più l'area del dicibile, cioè indurci a essere sempre più attenti nel momento in cui usiamo il linguaggio, che già ormai è un linguaggio impoverito drammaticamente dall'uso delle tecnologie, ma vi è più impoverito evidentemente dal fatto che abbiamo sempre più paura o di offendere qualcuno oppure di finire addirittura dietro le sbarre per aver espresso le nostre idee. Quindi voi capite che in gioco c'è molto, forse c'è troppo, c'è evidentemente il diritto di cui parlavo in precedenza, che era il diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione, tra l'altro in nome di una presunta esigenza di moralità, perché è immorale il bacio dato dal principe a biancaneve, in una società che della morale, dei valori, dei principi, delle fondamenta etiche del vivere civile e individuale ha ormai fatto completamente strame. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.